3, 2, 1, contatto, buonasera e benvenuti, benvenuti in Second Life al Gundam Park, siamo ospiti di Rubin Maio per quest'altra puntata di VR Low Cost per parlare di realtà virtuale, di quella realtà virtuale che non è più roba da ricchi, ma è una realtà virtuale che oramai è alla portata di tutti, questo è un evento Piramide Cafè in sinergia con Edu3D, che è una community di apprendimento costituita in gran parte da degli insegnanti, qui con me c'è Salazar Stenvag, siamo co-owner di Piramide Cafè ma lui è anche fondatore insieme a Gigliola Giurgola di Edu3D, è presente qui con noi anche il direttore di Sharing TV, questo evento viene ripreso, verrà pubblicato un video su YouTube chiaramente e poi trasmesso sul digitale terrestre sul canale 272 visibile in Puglia. Adesso lascio la parola a Salazar e vi ricordo che questa è una conference interattiva, siamo in questo ambiente immersivo, tematico al Gundam Park, siamo anche qui per celebrare il Gundam che compie 40 anni, quando sarà il momento di dibattere possiamo utilizzare il prenotino che è questa piramide che è qua vicino a me e ci prenotiamo e quindi possiamo tutti interagire nella discussione. Ok Sal, avanti pure. Sì, allora un attimo che vi metto in piedi, girato verso il pubblico, quindi come abbiamo visto, come avete visto qualcuno di voi abbiamo già fatto questo incontro nei mesi scorsi un paio di volte, una volta in Altspace VR e una volta già ancora in Second Life. L'idea era quella, non tanto che vi parliamo noi di queste cose, comunque l'idea di dare un po' di stimoli, ma è di soprattutto di creare un dibattito possibilmente durante questo incontro e vi farò vedere solo alcune diapositive, spero il meno possibile, nell'intento di spiegarvi anche delle cose nuove che stanno accadendo o comunque delle cose interessanti che stanno accadendo anche nel mondo della VR e soprattutto di quello che può essere la VR immersiva, dove per immersiva io intendo un'immersività di tipo psicologico più che non tecnologico. Comunque adesso lo vediamo un pochino meglio. Allora, innanzitutto ringrazio ancora l'ospitalità che abbiamo avuto in questa sim da Rubin Maio e ringraziamo ancora l'interesse di Avatron Stage, di Sharing TV. ecco, e poi andiamo, ecco adesso queste diapositive non le abbiamo viste la volta scorsa, ma le metto subito in anticipo. Questo è un mondo virtuale estremamente semplice che si chiama Mozilla Hubs. Adesso lo vedremo fra poco, è una cosa che si può costruire con il vostro cellulare o con il vostro insomma con un desktop piuttosto che con un visore, insomma come volete, in questione di pochi secondi, cioè praticamente basta avere un browser, il browser si possono accedere dai visori ma anche dal desktop o anche dal cellulare, si va su un indirizzo e si può costruire nel giro di pochi secondi, si può costruire un mondo virtuale. Un mondo virtuale in cui le persone possono entrare, le persone possono dialogare, le persone possono mostrare video e possono insomma avere questa esperienza proprio immersiva sia con i visori che senza. Questo in particolare è un video, sono due diapositive, cioè due foto che ha pubblicato oggi una Eva, che non so se sia presente qua, Eva Cry, e semplicemente quando uno crea un mondo virtuale in questo modo da semplicemente un numero di telefono, vedete che qua in questa diapositiva c'è un numero di telefono e dal visore si può, basta digitare il numero di telefono per andare a trovare. Scusa se ho usato le tue foto, ma era solo per dire che appunto in pochi in pochissimo tempo, insomma, chiunque può costruirsi i suoi mondi virtuali. Oltresì visto che anche Sharing TV ha fatto una cosa simile, nel senso che qualche una settimana, due settimane fa ha costruito proprio un video, costruito proprio dei mondi virtuali, proprio grazie a Mozilla Hubs e l'ha costruito credo in maniera abbastanza rapida, cioè semplicemente emettendo delle cose, tra l'altro di un livello abbastanza elevato, ma senza impiegare insomma energie o mesi per costruirlo. Comunque il concetto fondamentale, come mai parliamo di immersività in un mondo che di fatto non accetta i visori? Questo non è vero, nel senso che già da diversi anni esistono delle soluzioni con Firestorm che permettono di entrare con i visori, se uno vuole, e proprio in questi mesi stanno uscendo delle versioni nuove che permettono di utilizzarlo in maniera sensata. Dal mio punto di vista non è la soluzione migliore, nel senso che Second Life, e questo è un po' il problema, Second Life non è predisposta per la realtà virtuale, che per poterlo essere dovrebbe essere ristrutturata, ma è comunque una cosa interessante. Quindi il primo mito, cioè uno dei miti da sfatare della realtà virtuale che sia costosissima. Nella realtà si può accedere a delle esperienze in realtà virtuale spendendo molto poco, dove per molto poco intendo addirittura niente, nel senso che ho qualche decinaio di euro al massimo, perché ad esempio il Google Cardboard è una possibilità che consente di, comprando insomma del cartone di fatto con delle lenti, oppure delle cose leggermente più sofisticate, permette di entrare nei mondi virtuali come anche appunto Mozilla Hubs, che abbiamo visto anche quello più interessante per le scuole e per altre applicazioni diciamo di creatività, ma permette anche di fare dei videogame e altre cose. Chiaramente non è il mondo virtuale, insomma non è la realtà virtuale di serie A, la realtà virtuale di serie A è quella un pochino più sofisticata, ma vi assicuro che già solo con quello si riesce già a capire un pochino quello che sta succedendo. Altri visori a basso costo sono, e tra proprio negli ultimi anni, sono appunto l'Oculus Go, che è di fatto un Google Cardboard un pochino più elaborato, molto bellino, molto carino, che si compra e costa, adesso vedete sulla diapositiva che io ho segnato che costa attorno, cioè io l'ho pagato 180 euro, 170 anzi, l'ho comprato a gennaio. Adesso ho visto che con il lockdown e con il coronavirus un po' se ne sono approfittati, quindi i prezzi si sono un po' alzati, ma stiamo parlando comunque di un oggetto di una qualità molto interessante, che permette di entrare in mondi virtuali già interessanti come Altspace VR, dove abbiamo fatto un incontro un mese fa circa, poco più in mondi. In realtà la realtà virtuale, insomma un pochino più blasonata, la si comincia a ottenere bene con l'Oculus Quest, che è il fratello maggiore di Oculus Go, che attualmente costa un pochino di più, costa sui 400 e qualcosa euro. E poi c'è gli visori un po' più costosi, veramente, che sono quelli che si collegano al PC, costano più o meno, anche loro costano sui 400-500 euro, ma hanno bisogno di computer potenti, quindi in realtà la cifra si alza, perché bisogna anche la scheda grafica, però la tendenza del mercato attualmente è quella di concentrarsi sui visori, quelli stand-alone, cioè tipo il Go, tipo quello che, vedete che lo indosso io adesso, questo strumento, che tra l'altro è appunto targato Oculus, vedete che sembra pesante, ma in realtà la Plus Go pesa relativamente poco e è già una cosa che si può ottenere per un periodo anche relativamente lungo. Diciamo che le esperienze in realtà virtuale di solito non sono pensate per tenersi addosso il visore per intere giornate, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo della realtà virtuale di questa esperienza è quello di dare uno stimolo molto forte su cui poter costruire, quindi io parlo molto dal punto di vista educational, quindi nelle classi appunto si conoscono queste esperienze, ma anche, ed è molto interessante, noi in Edu3D, che è questo gruppo che abbiamo citato prima, che agisce molto in OpenSim, ma anche in altri mondi virtuali, cerchiamo soprattutto di insegnare agli insegnanti o comunque a chi vuole fare, di costruire i propri contenuti 3D, cioè i contenuti diciamo in realtà virtuale. E questo lo facciamo insegnando ad usare Blender, insegnare Unity, insegnare come costruire i videogame, ma anche esperienze proprie, insomma c'è costruirsi delle case, degli oggetti, quindi essere proprio attori e creatori in prima persona. Questa è una delle cose che noi abbiamo imparato tutti su Second Life, quindi Second Life diciamo è la nostra ispiratrice, la nostra musa, però Second Life si lavorava con i prim e ha un certo costo, invece usando questi strumenti che abbiamo detto prima Blender o Unity o altri, chiunque può creare dei contenuti da far fruire agli altri, insomma spendendo praticamente zero. E poi poi si può entrare con Oculus Go, addirittura con Cardboard, e usando questi strumenti che abbiamo visto, tipo Mozilla Hubs, o anche Alspace VR, che anche lui diciamo è abbastanza economico. Ora, poi io ho l'ultimissima cosa, e poi vi chiedo poi a voi di commentare, o eventualmente di chiedermi, che è più o meno la mia idea personale di immersività, e cioè il grado di immersione che si ha psicologicamente, quindi non parlo tecnicamente, la possibilità di capire che si sta vivendo un'esperienza che non sia un'esperienza terza, che ho raccontato da altri, ma un'esperienza proprio vera. Quindi questa è un po' una gerarchia, ma gerarchia necessariamente nel senso migliore o peggiore, ma nel senso di potenza. Se leggete un libro, se leggete una chat, avete una certa percezione. Se scrivete dei post su Facebook, potete vivere delle esperienze, ma sono limitate a quello che leggete o scrivete. Nel momento in cui fate, in questo momento molti di voi, per via del coronavirus, avranno usato teleconferenze, avrete visto che c'è questo nuovo veicolo comunicativo, che sono Zoom, Teams e gli altri, che però tende ad essere molto noioso. Non so se poi mi darete un feedback anche su questo, chi le usate. E poi invece, oltrepassando questo, si ha proprio l'immersività. Vedete che nella foto, nella diapositiva che state vedendo, vedete che c'è uno schermo, che è quello dove c'è l'immagine, ma che è lo schermo che poi viene oltrepassato, o dalla fantasia, o dalla realtà, tipo il visore, nel senso che si entra proprio dentro un mondo, più che non guardarlo dal di fuori. Quindi l'immersività vuol dire proprio la possibilità, per me, la possibilità proprio di entrare nel mondo, e tra l'altro, nel caso anche tecnologico, si può entrare proprio fisicamente, nel senso che si entra con la testa, con le mani, purtroppo attualmente non si riesce ancora ad entrare bene con i piedi, le gambe, insomma con altre cose, ma almeno le cose essenziali sono la possibilità proprio di viverlo, proprio integralmente, proprio sei lì, stai avendo questa esperienza. E questa esperienza ce l'hai in un mondo in cui ti muovi, puoi esplorare, girare, incontri persone, le puoi toccare, tra l'altro in alcuni casi anche proprio fisicamente, nel senso che i controller di realtà virtuale hanno anche degli strumenti di feedback, che ho chiamato aptics, che quando toccano gli oggetti vibrano, quindi danno la sensazione del tocco, pure un po' traslato, e detto questo poi si può andare avanti, quindi muoversi spazialmente con i visori, ma soprattutto ad un certo punto anche interagire dal vero con ciò che c'è lì dentro, quindi toccare gli oggetti, spostarli, e l'ultimissima frontiera è quella di creare poi voi stessi gli oggetti, magari con altri, e costruire un mondo, costruire un mondo dove si può fare lezione, ma si può fare anche semplicemente prendere il caffè, come un'abitudine che è stata imparata con Piramide Caffè e con Vulcano, nel tempo di Vulcano chi di voi l'ha vissuto, e direi che a questo punto io ho detto tutto, quindi mi rimetto a ciò che volete dire voi, insomma, quindi chi di voi vuole intervenire fate interventi brevi se siete in tanti, così cliccate sul prenotino che è questa piramidina che c'è a fianco di Magic, e ogni volta che toccate compare il vostro nome, quando avete finito poi l'intervento, lo ricliccate in modo tale da far sparire il vostro nome, ok? Quindi a voi, quindi chi vuole parlare, insomma ho visto che Fenies ha già richiesto, e quindi Magic direi di dargli la parola. Buonasera, felicissima di partecipare a questo secondo incontro molto molto interessante. Io faccio parte del gruppo De Clouchard, praticamente del teatro virtuale che facciamo qui su SL, e che poi avrete modo magari di vedere e rendervi conto. Io tanto però volevo parlare un attimo della mia esperienza di domenica. Domenica scorsa finalmente ci siamo un po' riuniti in famiglia, e in caso di mio fratello due nipoti, uno di 10 e uno di 14 anni, che mi hanno fatto indossare questo visore praticamente, e mi hanno fatto fare dei viaggi meravigliosi, e sono rimasta, dopo che appunto ne avevate parlato, sono rimasta meravigliata da quello che effettivamente si può fare. Non era a conoscenza, non lo conoscevo, non l'avevo mai indossato, e quindi è stata veramente una cosa nuova. Ho fatto un viaggio su Roma su un aereo delle frecce tricolore, vi assicuro che è stata una cosa stupenda, meravigliosa, bellissima. E quindi, anzi, mio nipote mi diceva, sì quello che a lui costa un certo costa, però mi diceva anche che addirittura di cartone costa 10 euro, e che comunque per vedere certi video e altre cose va benissimo lo stesso, quindi questo per chi volesse acquistare qualcosa di economico. Scusa se ti interrompo, ma quel video che hai detto, quello della frecce tricolore, l'ho visto anch'io, ed è un video a 360 gradi, quindi una cosa molto molto semplice. Infatti io mi giravo dietro e vedevo il pilota che pilotava l'aereo, vedevo tutto, sì sì, è vero. E si può vedere tranquillamente con Google Cardboard, io l'ho visto con Google Cardboard e si vede benissimo, quindi spendendo appunto quei famosi 10 euro, no? Sì, io l'ho visto, vabbè, io ne ho visto con un visore molto più complesso che i ragazzi avevano lì a casa, però vi assicuro che è stato veramente... Poi mi hanno fatto uno scherzo, perché mio nipote, uno con un ventaglio mi faceva sentire l'aria e un altro mi schizzava l'acqua, quindi avevo proprio... Sai quando stai in mezzo... È come se volavo con questo aereo col finestrino aperto, insomma è impossibile, però veramente una bellissima esperienza, bello, veramente molto molto interessante, sì, ne vale veramente la pena. Una bella novità. Grazie. No, infatti una cosa che diciamo noi molto spesso è che la gente finché non ha... non lo... Insomma, cioè sentirlo parlare da altri non rende. Bisogna sperimentarlo compiutamente questa cosa. E magari con qualcuno che offra qualche cosa di interessante, insomma. Questa realtà virtuale ormai è alla portata di tutti e non bisogna limitarsi a dire... Cioè non bisogna... Bisogna essere curiosi, no? Esplorare le varie opportunità, ci sono vari mondi che hanno anche un costo zero. Cioè il format in questione è VR low cost. Noi siamo partiti con Altspace VR, che è la piattraforma Microsoft, dove c'è la possibilità di creare delle ambientazioni, di avere degli spazi, creare degli eventi, tutto gratuitamente. e con un visore per la realtà virtuale si ha un grado di immersività che è straordinario. Un qualche cosa che noi già viviamo qua in Second Life, già viviamo nei mondi 2D, come vengono definiti, ma con la realtà virtuale si ottiene quell'effetto della compresenza. Cioè si ha veramente la sensazione di trovarsi in quel luogo lì. Proprio l'altra sera, con Edu3D, abbiamo fatto una bellissima esperienza, ci siamo trovati tutti, stavamo tutti sperimentando, in Mozilla Labs, che è questo mondo che ha presentato prima Salazar, abbiamo visto alcune diapositive, c'erano diversi insegnanti di Edu3D, e vedevamo un attimino come fare le cose. Se Lux vuole intervenire, lei ci ha portato una classe lì, perché Mozilla Labs è particolarmente indicato anche per poter portare delle scolaresche lì dentro, perché si creano degli ambienti, basta un link, che sono chiusi, quindi sono anche protetti. Vuoi raccontare un attimo la tua esperienza, Lucia? Sì, volentieri. Ok. Parla pure, se puoi alzarti in piedi. Allora sì, una piccolissima, veramente una piccolissima esperienza, che non si può confrontare con le esperienze che di solito fanno le mie colleghe in Edu3D, che sono bravissime, portano delle classi intere in OpenSIM. Sì, grazie Eva. Allora, portano queste classi, fanno anche costruire oggetti, usano Blender, cose meravigliose. Io non ho mai potuto farlo perché nel mio istituto scolastico non c'era un laboratorio informatico. Il laboratorio informatico l'abbiamo inaugurato dieci giorni prima del lockdown, quindi è stata anche una grande frustrazione. Allora, tre sere fa ho guardato un video che aveva preparato proprio Salazar su questi modi da Hubs, quindi io non avevo proprio idea. Ho guardato questo video di mezz'oretta. La mattina dopo, con una mia classe, che era molto stanca, stufa, a sesta ora di video lezione, ho detto perché no, io provo a mostrare. Eravamo tutti in Meet, quindi ho semplicemente condiviso lo schermo, ho fatto vedere come entrava, avevo già preparato l'aula, e tempo dieci minuti, eravamo tutti dentro, e questi ragazzini con il loro avatar correvano avanti e indietro come dei matti perché avevano la sensazione di non essere più seduti. Loro soffrono molto per il fatto di stare seduti delle mattinate in terreno, perché noi facciamo il nostro orario pieno, regolare, con lezioni di 40 minuti, le pause di 20 minuti fra una lezione e l'altra, però lo stesso è molto pesante per i ragazzi. devono stare seduti e mi hanno raccontato che uno dei problemi grandi è quello di distrarsi, anche perché di norma hanno davanti a sé il computer e sotto il naso il cellulare, sono in continuo multitasking, quindi hanno anche questo problema di mancanza di concentrazione, cosa di cui si sono completamente dimenticati nel momento in cui ci siamo trovati dentro a Mozilla Hubs e loro hanno scoperto che potevano muoversi fisicamente, avevano questa sensazione di muoversi con tutto il corpo, che è una sensazione che però ti coinvolge. La cosa interessante è che io spero che intanto è una cosa immediata, se sono riuscita a farla persino io in un attimo può farlo chiunque veramente. Mi è bastato mettere il link nella chat della videocall e sono tutti entrati senza proprio nessun problema. L'altra cosa è che dentro Mozilla Hubs c'è l'audio spaziale, nel senso che tu ti allontani da chi sta parlando e l'audio e il volume del suono si abbassa. Questo significa che io potrei ritrovare la possibilità di fare i lavori di gruppo, perché in una videocall non puoi fare i lavori di gruppo. Io ho anche provato ad aprire quattro aule di Meet e mi è crashato il computer, quindi non è possibile. Quindi nel momento in cui io entro in Mozilla Hubs scelgo un ambiente che sia abbastanza grande, spedisco i ragazzi in quattro punti distanti a gruppi e in teoria con un po' di buona progettazione dell'attività si dovrebbe poter riuscire a fare qualcosa di carino. Ecco, volevo raccontare solo questo, una piccola cosa però mi apre veramente delle grandi possibilità. Ma è una grande cosa Lux, anzi è una bellissima testimonianza. Tra l'altro l'altra sera quando mi raccontavi mi dicevi di quel ragazzino che poi i ragazzini fanno i primi anni delle superiori. che ha chiamato su mamma, mamma vieni a vedere, vieni a vedere. Sì, 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 è stato veramente un'emozione devo dire, sentire questi ragazzi che improvvisamente si accendevano dopo tante ore di scuola pesantissima per loro. Però mi dicevi che qualcuno l'aveva anche criticato. Sì, allora, i ragazzi, sì, questa è una cosa molto interessante. I ragazzi che vanno a giocare, che fanno questi giochi online o che sono abituati alla PlayStation o questi ambienti in realtà molto raffinati e soffrono un poco, no? Cioè entrano in questi ambienti che di necessità sono molto leggeri, quindi hanno una grafica molto leggera. E li trovano elementari, li trovano grossolani, infatti uno ha fatto questo commento. Però, devo dire, sono ragazzi intelligenti, quindi capiscono immediatamente qual è il vantaggio rispetto alla videochiamata, no? Quindi apprezzano. No, io volevo dire, la storia della minimalità in realtà era già stata abbondantemente, diciamo, superata con Minecraft. Chi di voi mi ha seguito, ma non solo a me ovviamente c'è, ha visto cosa è successo negli ultimi decenni, si è accorto che un gioco in cui la grafica era praticamente zero, anzi assomigliava a delle cose anni 80, anni 70, e quindi ormai dell'epoca, insomma, dei nonni. Invece milioni, e parlo milioni, ma forse bisogna parlare di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, si sono messe a giocare a Minecraft, e non solo bambini, anche adulti, al punto che l'estetica di Minecraft, che è questa estetica minimalistica, è diventata di fatto una cosa, un'estetica moderna, no? Quindi adesso, addirittura anche nei manifesti pubblicitari si usa questa estetica, diciamo, del low poly, e questa estetica oltretutto in questo momento si sposa benissimo con i visori, con i cellulari, e quindi non è poi, non stiamo parlando di una semplificazione che riduce l'esperienza, ma anzi, a concentrare l'esperienza sul suo essenziale, che è poi quello che mi interessa. E anche Alspace VR, finisco solo questo, che ha più o meno lo stesso difetto, anche noi la prima volta che siamo entrati in Alspace VR abbiamo detto che è schifo, perché mancano gli avatar, mancano i piedi, insomma tutte queste cose, ma dopo un attimo ci siamo accorti che invece è una comunità, anche lei molto molto densa, e molto pregnante, ecco è tutto. Scusami Magico, vai pure. No no, scusami, scusami. Io volevo semplicemente far notare alcune cose, proprio perché tu parlavi della differenza tra gli avatar di Second Life o di Open Sim, che è la cosa che salta subito all'occhio, noi siamo abituati qui ad avere degli avatar molto belli, molto rifiniti, ricchi di particolari, ma quelli sono monti che sono fatti per i visori della realtà virtuale, e quando uno indossa questo visore si sente all'interno di quel corpo, cioè non si vede, non è quello l'elemento essenziale, l'elemento essenziale è proprio l'immersività che lì è totale, e mi ricollego a quello che aveva detto Lux sul fatto della concentrazione, cioè quando si è lì dentro, per una lezione oppure per un panel, per quello che volete, l'attenzione è totale, è un qualche cosa che non si ottiene con nessun altro sistema. È evidente che nessuno deve rimanere otto ore con un visore sulla faccia, ma mai nessuno vuole lanciarvi un messaggio di questo tipo. Semplicemente il segnale che noi lanciamo è questo, cioè non limitatevi solamente a Second Life. Second Life è un mondo meraviglioso, quando parlo di Second Life parlo anche di OpenSIM chiaramente, che ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, e va bene per fare determinate cose, ma adesso c'è l'opportunità anche di sfruttare altre possibilità, come la social VR. Questa sera non è stato accennato, ma anche Facebook si appresta a scendere in campo, con il suo Facebook Horizon, che sarà il mondo dedicato alla realtà virtuale, alla social VR di Facebook. I visori Oculus sono di Facebook, il signor Zuckerberg ci punta tantissimo. Quindi nel momento in cui verrà rilasciata la versione aperta a tutti, vedrete che ci sarà da divertirsi dentro anche perché siamo tutti su Facebook. C'è qualcos'altro che vuoi dire, Sal, per concludere? Sì, solo una cosa. Tutti questi mondi, tipo anche Healthspace e anche Horizon, probabilmente avranno tutti lo stesso problema dal punto di vista educational, almeno per lo comodo 3D, e cioè che di solito si possono entrare soltanto persone oltre i 13 anni e in alcuni casi oltre i 18 anni. Qui, ad esempio, ho chiesto anche l'ultima volta com'erano le policy e in Second Life i minori attutori, cioè i minori di 13 anni, che tra l'altro sono tra i massimi fruitori, abbiamo visto di OpenSim e delle cose che vengono fatte, purtroppo non ce la fanno. Quindi da tenere conto anche quello. E l'ultimissima cosa, invece una novità di questa settimana che forse a voi dirà poco, ma noi insegniamo a costruire con Unity e con altri strumenti. Dalla settimana scorsa ho letto che un altro motore di gioco, Game Engine, che si chiama Unreal Engine, sembra che sia diventato gratis anche lui. E tra l'altro Unreal Engine è anche open source, ed è un'altra delle cose che mi spingeva. Il motivo per cui noi stiamo anche un pochino spingendo Mozilla Hubs è perché anche lui viaggia nella direzione open source, quindi è una cosa che noi ci teniamo molto, soprattutto anche nell'educazione. Ok, allora, io mi avvierei la conclusione, vorrei ricordarvi che Pirami il Caffè è un gruppo che ha aperto a tutti, io ho passato da alcuni di voi anche su Facebook, rimanete in contatto con noi, perché comunque noi pubblichiamo tutte le cose che ho collegate a quanto abbiamo detto questa sera, anche Edu3D, per quanto sia una community costituita da maggioranza da insegnanti, ma è aperta a chiunque voglia collaborare, voglia imparare.